Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 10 novembre, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Battì becchi d'amore. Amorevolmente risolti. Tranquilla la giornata sul lavoro, specie se si tratta di un'attività che amate e la cui scelta è stato un percorso inevitabile, uno sbocco naturale per la vostra personalità creativa e giocosa, disinvolta e sempre comunicativa. Non solo lavoro, però, il giorno per la testa, la sera per il cuore, stasera avete tante cose da raccontare al partner, perciò volete campo libero, niente interferenze né dalla famiglia e tanto meno dagli amici, passino al massimo i figli, ma si sappia che con la luna e venere abbracciate intrigono, l'amato bene oggi è tutto vostro. Sogni e percezioni extrasensoriali vi rivelano ciò che la mente razionale rifiuta, nulla da temere, per trionfare contro eventuali complicazioni sapete di avere un ottimo arsenale, anche se la miglior difesa, come insegnano i saggi, non è l'attacco, ma l'accoglienza, l'amore. Possibile fortuna al gioco, non vi renderà miliardari, tuttavia tenter non nuoce. E la famiglia e la casa, il focolare e la fecondità. Un amore molto idealista, folle, un rapporto rocambolesco, un partner sognatore, di fantasia. E il consolidamento dell'immagine di moglie, madre, fidanzata, figlia. I single possono sperare in un amore improvviso e romanzesco, un'avventura mozzafiato. Oggi non tentate la fortuna, Marte vi è contro e non fareste un buon servizio alle vostre finanze. I nati di lunedì avranno noie sul lavoro e si sentiranno stanchi. Per gli altri normale routine. Ma che fatica! Abbiate cura di iniziare a cambiare qualcosa nella vostra vita, seppure partite dalle cose piccole, facili e realizzabili, curate però di iniziare a farlo. Amori clandestini e segreti oggi potrebbero conoscere un giorno luminoso e di intense emozioni, fate attenzione però che qualcuno vi spia o ha intenzione di farvi spiare. Buone notizie via posta o via cavo. Denaro extra. Punto discreto il morale nella mattinata, meglio nel tardo pomeriggio. Vantaggi frequentando associazioni o circoli. Soddisfazione da amici. Possibilità di chiarimenti, non peggiorate le cose però con toni polemici e assillanti. Prendete tutto a cuore leggero e con mente aperta. Otterrete buoni risultati. Critiche soprattutto dal fronte delle amicizie per alcune vostre scelte in campo sentimentale. Prendete per vero che non tutte queste critiche sono giustificate e, anzi, potrebbero essere motivate unicamente da gelosia. L'alimentazione è una fatta determinante per il vostro equilibrio psichico, fate in modo da regolarizzarla e potendo affidatevi a uno specialista dietologo per affrontare al meglio la vostra forma. La bussola dell'amore vi sta per condurre in un porto nuovo, non smarrite la via e tenetevi forte. Chi è stato allontanato da un gruppo o da un'amicizia avrà la possibilità di tornare in scena alla grande. Sentirete crescere dentro in voi il fascino e la capacità di seduzione, e non vi sarà preda che sfuggirà alle vostre mire. Potrete organizzare un piacevole viaggio, incontrare gli amici o portare a termine una trattativa di lavoro. Potete fare quello che volete ed avrete inoltre, molta ispirazione per nuovi affari e nuovi progetti, non solo lavorativi. Venere e Luna entrambe positive dal segno amico della bilancia, concorrono a farsi che la giornata sia decisamente serena. Quali sono i pianeti che vedono affivolirsi le loro caratteristiche nel vostro segno zodiacale? Senz'altro Giove, pianeta dell'espansività, della crescita, del possesso. Il vostro atteggiamento perennemente adolescenziale si rifiuta di allargarsi, maturare, di possedere, essere posseduto, perlomeno in senso morale. Poi ancora, Nettuno, pianeta della metamorfosi, che esclude in voi cambiamenti definitivi, vere e proprie rivoluzioni che permettano al vostro io di mutare pelle, come i serpenti. Siete invece talmente immersi nel vostro personaggio che risulta difficile riuscire a staccarvi da questo ruolo. Super Trigo non dare a quello in gioco tra la luna in bilancia, che oggi corre a raggiungere Venere. Momento magico, soprattutto per chi è alle prese con una storia d'amore in fase iniziale, sogna di avere un bimbo o è già in dolce attesa. Amore ed Eros. Anche se siete in coppia tra gli amici qualcuno vi infila, da un lato la cosa vi sorprende, dall'altro vi intriga. Diversamente vanno le cose se la corte la fanno alla vostra dolce metà, in questo caso vi divertite molto meno. Le compagnie dei vostri figli non vi convincono, teneteli d'occhio. La vostra voglia si svolazzare, trova oggi formidabili opportunità per esibirsi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 21 al 29 di maggio. La luna ritornata in posizione molto benefica per voi gemelli vi aiuta a spaziare e trovare occasioni di relazioni di qua e di là, se avete il cuore libero. Lavoro e denaro. La sensibilità vi aiuta nel lavoro, siete comunicativi, diplomatici e come sempre la creatività vi regala una marcia in più. Romanticismo la parola chiave in tutte le vostre scelte, dalle attività ludiche al cinema, ai romanzi. Se avete velleità artistiche e con il disegno, i pennelli, il pianoforte ve la cavate benino, stasera sarete ispirati. Con il vostro garbo e un po' del senso dell'umorismo che vi contraddistingue, sapete farvi rispettare in ufficio. I vostri capi possono mettervi sotto, facendo in modo che tutto il carico del lavoro ricada su di voi. Benessere. Occhio alla circolazione e alle varici specie per chi ha un lavoro che lo costringe lunghe ore in piedi, ma anche la pressione va tenuta sotto controllo, utile il biancospino, ma se non basta c'è sempre il magico vischio. Denaro. Siete favoriti nel tentare la fortuna al gioco. Dal gratta e vinci, al totocalcio, al superenalotto, fino alle corse dei cavalli e le lotterie, avrete una strada decisamente in discesa. I più protetti dalla sorte sono i nati in maggio. Per lei, stop a chiunque tenti di imporvi le proprie idee, aspirate a una giornata pacifica, incentrata su lavoro e sui figli, perciò guai a chi si azzarda a rompervi le uova nel paniere. Per lui, con gli amici che vi propongono una vacanza trasgressiva prendete tempo. Non temete per la vostra immagine, avete semplicemente bisogno di tranquillità. Colore delle emozioni, rosa cipria. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 6, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.